ciao a tutti amici di storia italian player io sono domenico e oggi parlerò di portieri under 23 a ottimi per il periodo estivo dove i campionati europei sono fermi ve ne consiglierò cinque allora andiamole a vedere insieme il primo di cui vi voglio parlare e lui celentano il top del top avete il budget volete assicurarvi il top player in porta per questo periodo estivo beh lui è sicuramente il migliore che c'è sul mercato infatti il suo prezzo la dice lunga stiamo parlando di un 22 n under 23 fino al 2025 e celentano è il primo portiere del cincinnati che sta facendo un campionato fantastico e nel mls portando a casa dei voti assurdi quindi vi faccio vedere portato a casa tanti gli shit e tanti all around quindi è un portiere che interviene gioca con la palla ai piedi e fa belle parate che porta che gli shit sicuramente lui è il top player della dell'estate poi andiamo avanti c'è osago j league san frecce avrei sempre c'è una buona squadra della g league praticamente quinta in classifica osago è un bravo portiere sarà under 23 fino al 2024 come potete vedere i voti che prende sono abbastanza buoni alterna alte prestazioni con prestazioni basse in cui il san frecce non è dato tanto bene per esempio nell'ultima nell'ultima partita ha perso con di kawasaki frontale fuori casa oppure altre partite in cui il san frecce non è andato molto bene ma sicuramente osago è un buon portiere e sicuramente il il prezzo è altino nei confronto ai voti che prende però l'ho messo come seconda scelta perché comunque è un'ottima scelta chris brady chris brady è uno dei portieri più giovani che giocano durante l'estate e che a soli 19 anni si è preso il primo posto come portiere del c del chicago fire in mls bene chicago fire non vanno molto bene questo sicuramente influenza tantissimo sui voti di chris brady chris brady ha soli 41 euro a un l 15 42 che lo rende perfetto per un under 20 per una cap 240 o addirittura per una cap 220 con un top player in campo a dei voti abbastanza discreti con dove alterna brutti voti dovuti alle partite pessime che comunque porta la squadra e sicuramente se cercate un portiere che vis che vi può servire adesso e per il futuro fino al 2028 under 23 sicuramente questa è una buona scelta poi vi voglio parlare della scommessa li guanghieo lui è sicuramente una scommessa avete poco budget volete rischiarvela ok se volete rischiare avete poco budget sicuramente lì guanghieo potrebbe essere un ottimo investimento bene lui si gioca il posto con il primo portiere quando ha avuto la possibilità di scendere in campo ha avuto ottimi voti stiamo parlando di gangwon che è il penultimo in classifica le prestazioni del gangwon non sono un gran game ma i suoi voti sono sempre stati ottimi quando è stato in campo bene il fatto che lo rende molto interessante è che è cambiato l'allenatore viste le brutte prestazioni del gangwon quindi questo riporta in gioco di nuovo il primo posto per il portiere sicuramente quando arriverà la prima partita con il suo con il nuovo con il nuovo allenatore se lui dovesse scendere in campo il suo prezzo salirà veramente di tantissimo quindi potrebbe essere un ottimo investimento in ottica di plus valenza e ottimo per una cap per una competizione under 23 e le prossime parti dovesse essere titolare le prossime partite sono anche favorevoli suon in che un guaggio e sicuramente se la può giocare può prendere anche i buoni voti quindi se veramente avete poco budget lui potrebbe essere una scommessa un'ottima scommessa sappiate ricordate che i posti in k league non sono per i portieri è sempre difficile definire chi è il portiere titolare lui per questo è una scommessa perché se dovesse tornare titolare con il nuovo allenatore il suo prezzo veramente potrebbe salire di molto poi voglio parlarvi di quello che io consiglio più di tutti che secondo me resta uno dei migliori portieri attualmente e come qualità come miglior rapporto qualità prezzo ed è beok yong beom ed è il primo portiere portiere titolare di seul lui è riuscito a soli 22 anni a togliere il posto al primo portiere di seul che è molto più grande di età e è un ottimo portiere pre ha un ottimo prezzo 30 con soli 36 euro quindi 0 0 2 vi portate a casa un buon portiere che potrete utilizzare sia nelle cap 240 220 vista nelle 15 5 che 41 viste l'ultima presenza che è l'ultima partita che ha fatto seul un pare e due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre quindi sicuramente il prezzo che adesso vi faccio vedere ecco qui è sceso leggermente e poche settimane fa stava all'incirca 50 euro quando il seul stava spingendo forte quindi per me il consiglio che io do come miglior qualità prezzo è sicuramente lui mentre volete un top player avete il budget andate su celentano e spaccherete sicuramente l'under 23 che con cui magari potete poi affiancarli con altri giocatori che vedremo in altri video allora per questo video è tutto spero che vi piacciono i miei mi sono piaciuti i miei cinque portieri under 23 e se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale youtube ci becchiamo su tutti i social domenico di solito l'em player per il video è un'altra cosa che si tratta di 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 un